Ricordatevi, conoscete meglio di me, mi basta dire, sì sì, e l'abbiamo visto di fare il lavoro che abbiamo fatto, vi ringraziamo tutti qui dentro per quello che avete fatto in questi anni. Sì sì, grazie, grazie, sì, sì, ma abbiamo visto i risultati nei numeri, onorevole Maggi, delle politiche che avete portato avanti in questi anni, abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto. Scusate, no, smettila, onorevole Maggi, lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire, dovrebbe sapere che non sono una persona che si fa intimidire, pensate bene, perché io so esattamente che cosa sto facendo, il punto è se me ne legiate conto voi di quello che sto facendo. Al predo, io sono stata lunghi anni al 3%, capisco che cosa vorrei portare da questa vita. Grazie. 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 Bene. Con il mio fatto, avete organizzato per anni conveni che nessuno sia saltato a contestare, e che, onorevole Maggi, voi avete organizzato per anni convegni raccontando un mondo che non esisteva e che però nessuno si è permesso di tentare di bloccare. Nessuno si è permesso di avere questa mancanza di superiore. Oggi dovete aspettare che c'è un altro governo che stanno scendo dagli italiani. Grazie.